Dal libro dei numeri Allora il Signore mandò fra il popolo serpenti brucianti, i quali mordevano la gente, e un gran numero di israeliti morì. Il popolo venne da Mosè e disse, abbiamo peccato, perché abbiamo parlato contro il Signore e contro di te. Supplica al Signore che allontani da noi questi serpenti. Mosè pregò per il popolo. Il Signore disse a Mosè, fatti un serpente e mettilo sopra un'asta. Chiunque sarà stato morso e lo guarderà, resterà in vita. Mosè allora fece un serpente di bronzo e lo mise sopra l'asta. Quando un serpente aveva morso qualcuno, se questi guardava i serpenti di bronzo, restava in vita. Signore, ascolta la mia preghiera. Signore, ascolta la mia preghiera. A te giunga il mio grido di aiuto. Non nascondermi il tuo volto nel giorno in cui sono nell'angoscia. Tendi verso di me l'orecchio. Quando ti invoco, presto, rispondimi. Signore, ascolta la mia preghiera. Le genti temeranno il nome del Signore e tutti i re della terra e la tua gloria. Quando il Signore avrà ricostruito Sion e sarà apparso in tutto il suo splendore. Egli si volge alla preghiera dei derelitti. Non disprezza la loro preghiera. Signore, ascolta la mia preghiera. Questo si scriva per la generazione futura. E un popolo, da Lui creato, darà lode al Signore. Il Signore si è affacciato dall'alto del suo santuario. Dal cielo ha guardato la terra. Per ascoltare il sospiro del prigioniero. Per liberare i condannati a morte. Signore, ascolta la mia preghiera. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, Gesù disse ai farisei. Io vado e voi mi cercherete. Ma morirete nel vostro peccato. Dove vado io? Voi non potete venire. Dicevano loro i giudei. Vuole forse uccidersi. Dal momento che dice Dove vado io? Voi non potete venire. E diceva loro Voi siete di qua giù. Io sono di lassù. Voi siete di questo mondo. Io non sono di questo mondo. Vi ho detto che morirete nei vostri peccati. Se infatti non credete che io sono Morirete nei vostri peccati. Gli dissero allora Tu Chi sei? Gesù disse loro Proprio ciò che io vi dico. Molte cose ho da dire di voi E da giudicare. Ma colui che mi ha mandato è veritiero. E le cose che ho udito da lui Le dico al mondo. Non capirono che egli parlava loro del padre. Disse allora Gesù Quando avrete innalzato il figlio dell'uomo Allora conoscerete che io sono E che non faccio nulla da me stesso Ma parlo come il padre mi ha insegnato. Colui che mi ha mandato È con me Non mi ha lasciato solo Perché faccio sempre le cose che gli sono gradite. A queste sue parole Molti credettono in lui.